buongiorno dall'alloravati benvenuti nel secondo video per quanto riguarda i nostri occhiali raiband sono gli occhiali raiband questi allora iniziamo la modellazione vera e propria e l'altra volta abbiamo messo una curva che è questa qui eccola qui questa curva qui in mezzo che ci dà esattamente il centro diciamo del del nostro occhiale perché perché dobbiamo andare a costruire appunto questa forma organica qui come facciamo sempre con il nostro comando aggiungi faccia quindi giungi faccia possiamo tenere ma anche senza questo perché vedo che si aggancia comunque aggiungi faccia a no abilitiamo lo snap si fine vicino e basta questo qui e poi ci agganciamo vede che io ho già messo la punta proprio che finisce lì sul bordo quindi clicchiamo clicchiamo e iniziamo a costruire le nostre facce allora la cosa importante è quando utilizziamo giungi faccia e che noi dobbiamo andare a costruire sempre un rettangolo quindi con quattro lati e mai andare a costruire un triangolo possibilmente ecco perché perché rhino e cioè ti spline riesce a gestire meglio diciamo quelli che sono delle modellazioni dei degli oggetti con quattro facce quindi delle superfici con quattro facce e non con tre ecco poi un altro click e andiamo a costruire allora qui possiamo fare una cosa di questo tipo qua anzi facciamo contro z e ricostruiamo di nuovo possiamo andare a costruirlo in questo modo qui quindi così 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 e così perfetto così siamo sicuri di farle quattro facce perfette così e così benissimo ok ecco vede che lui va subito a modellare in modo morbido la nostra modellazione a questo punto facciamo una cosa per semplicità e clicchiamo su questo comando che commutiamo da morbido a duro quindi a poligonale diciamo in questo modo qua poi prima di proseguire facciamo un'altra operazione qual è quella di andare a creare una simmetria perché perché man mano che noi costruiamo la parte sinistra in automatico lui mi andrà a costruire parte a destra quindi tenendo selezionato questo clicchiamo su simmetria qui nella riga di comando clicchiamo su aggiungi assiale e ci agganciamo qui andiamo verso l'alto perfettamente ecco vedete che lui va adesso a costruirmi in automatico poi vedete cosa succede se io tendo selezionato attivo tipo i punti di controllo ne seleziono uno e lo sposto vedete che in automatico lui mi fa la stessa modifica anche dall'altra parte quindi non è questo il caso ovviamente andiamo avanti con la nostra modellazione delle facce quindi aggiungi faccia e andiamo avanti qui sotto a creare le nostre facce sempre ovviamente a quadrati cioè con quattro lati pardon ecco qui diciamo diciamo il non dobbiamo farlo in diagonal così ma dobbiamo farlo perfettamente perpendicolare così lui riesce a gestire meglio anche questa costruzione in questo modo qua vedete attac poi ci ricolleghiamo rifacciamo di nuovo un'altra faccia ecco non preoccupatevi se qui non va perfettamente vicino ma quando noi andremo a commutare morbido poi seguirà perfettamente il profilo e se non seguo perfettamente andiamo a farglielo seguire poi noi manualmente insomma ecco andiamo avanti questo modo qua ecco vedete che anche dall'altra parte avete in automatico lui mi va a costruire l'altra forma perfettamente simmetrica quindi non mi devo preoccupare dell'altro lato ma solamente di quello che sto facendo da quest'altra parte perfetto ok una volta terminato andiamo a ricongiungerci con quello iniziale e vedete che adesso abbiamo finito di realizzare la nostra struttura ecco siccome la nostra struttura la nostra superficie va a toccare perfettamente la nostra immagine mente che crea questo tipo di problema qui quindi allora sblocchiamo la foto selezioniamo la nostra fotografia e la spostiamo leggermente indietro e poi riblocchiamo il tutto ok quindi abbiamo la nostra forma perfetta facciamo un bel salva così ce l'abbiamo salvato se noi adesso andiamo commutare morbido guardate cosa succede allora io seleziono clicco su morbido ecco vedete che lui va a commutarmi perfettamente morbido e se voglio seguire meglio le forme diciamo del del mio oggetto originale e tenendo selezionato questo attivo la modalità di editing vado nel display in senso una grip vado sui punti ok e posso andare a selezionare punto per punto e andare a muovere punto per punto per andare a seguire meglio quello che è il profilo originale del mio oggetto poi anche se non è identico il cento per cento va bene lo stesso dico ecco l'unica cosa di avvicinarci magari il più possibile ecco la forma poi ripeto anche se non non la ricalca perfettamente come qui magari ha bisogno invece di essere messo un pochino più a posto anche da quest'altra parte appena appena ok perfetto anche qui io direi che ci siamo abbastanza dai io direi che va bene questo modo qua vediamo perfetto io direi che va bene andiamo in prospettica eccolo qua questa è la nostra forma che abbiamo realizzato da questa e dobbiamo andare a creare ovviamente quello che è il nostro come si dice il nostro la nostra forma organica e con lo spessore quindi la selezioniamo allora facciamo che invece di oro mettiamo nero così lo vediamo bene perfetto e in questo modo qua che la selezioniamo la selezioniamo clicchiamo qui sopra assegna spessore vedete che se si allora togliamo gli snap così non rompono ecco se io vado in alto dopo spessore se vado in basso do meno spessore ecco qui io potrei mettere anche specificare lo spessore non so adesso non lo so e faccio 20 e gli do l'ok direi che non ci siamo su 20 ok invece di 20 possiamo dagli tipo 2 forse vediamo 2 via troppo quindi due no sarebbero dei belli occhiali comunque uno a 0.5 quindi facciamo 0.5 invio vediamo ok 0.5 potrebbe anche andare ecco vedete che abbiamo già una forma abbastanza interessante ok in questo modo qua perfetto poi andiamo avanti andiamo creare quelli che sono qui l'appoggio per per il naso quindi tendo selezionato sempre di spline selezione grip faccia stavolta selezioniamo la le due una e una due secondo me questo potrebbe andare bene clicchiamo su estru di faccia perfetto e poi andiamo a estrudere la nostra faccia in questo modo qui ok quindi sarebbe l'appoggio diciamo per per il come si dice per il naso ok e poi forse potremmo anche leggermente portarlo verso l'alto ruotare un attimino vediamo andiamo qui ok eccolo qua perfetto potrebbe anche andare bene o forse allora no un po troppo basso allora facciamo una cosa ok invece che questo e questo facciamo questo allora questo e questo clicchiamo su estru di faccia e lo portiamo verso l'esterno se forse è meglio questo ok eccolo qua perfetto poi andiamo nel frontale e andiamo a ridurlo un attimo con scala 1d con scala 1d noi possiamo tranquillamente andare a ridurre un pochino in questo modo e poi lo spostiamo al centro così vediamo un po' spettica ok perfetto poi selezioniamo questa faccia e questa andiamo nel frontale sempre e anche questo lo riduciamo un attimo quindi con scala 1d possiamo andare a stringerlo un attimo vediamo se può andare bene perfetto io direi che va abbastanza bene non è il top però direi che va abbastanza bene facciamo un salva ok e adesso dobbiamo andare a creare invece qui così dobbiamo andare a creare gli appoggi per quelle che sono le bacchette che si dovranno andare ad attaccare in questo in questo spazio qua allora per fare questo qui dovremmo andare ad aggiungere ad aggiungere delle diciamo una spaccatura cioè altre linee qui quindi nel ricomando digitiamo ts ts aggiungi quindi aggiungi va benissimo sarà ts inserisci bordo semplice lui mi chiede di aspettate un attimo ask facciamo così ti spline seleziona grip bordo perfetto poi ts ts inserisci bordo semplice dobbiamo selezionare le e i bordi dove andare inserire le nostre le nostre linee questo e questo potrebbe andare bene anche questo diamo un invio ecco vedete che lui mi inserisce un bordo che posso andare a selezionare tipo così perfetto ok e anche dall'altra parte mi ha fatto la stessa identica cosa quindi questo punto sempre ti spline seleziona grip faccia 112 diciamo estrudi ok e mi ha creato la mia base piana ed estrudiamo leggermente appena appena questo modo qua perfetto perfetto ok così abbiamo creato diciamo lo spazio per andare a inserire poi andiamo sempre a selezionare la faccia per stavolta questa e questa e andiamo a riportarla leggermente all'interno in questo modo ok perfetto va bene dai teniamolo così che va benissimo ok dobbiamo fare un'altra cosa dobbiamo andare a rendere diciamo più un po più piatto questa parte sotto dell'occhiale anche la parte un pochino sopra l'occhiale perché dovranno poi essere inseriti diciamo delle lenti delle lenti e quindi per fare questo possiamo fare una cosa questo tipo qui andare sempre su allora comando scorrimento bordi selezioniamo selezioniamo i bordi da far scorrere un pochino in avanti tipo questi qui diamo un invio e per fare scorrere dobbiamo andare sopra diciamo queste linee diciamo di scorrimento vedete e poi facciamo scorrere il bordo verso il basso in questo modo quali diamo ok col sinistro mouse vedete che abbiamo appiattito un pochino quello che è la la parte sotto idem facciamo da quest'altra parte quindi selezioniamo uno due tre quattro quattro cinque bordi diamo un invio e facciamo scorrere un po verso il basso anche questi ok ecco vedete che abbiamo schiacciato un pochino diciamo la base ok e facciamo questa cosa sopra quindi idem allora scorrimento bordi uno due tre quattro ok togliamo la foto momentaneamente andiamo a vedere ok io direi che va abbastanza bene in questo modo qui gli diamo un salva perfetto ok e per oggi io mi fermerei qui la prossima volta andiamo avanti e andiamo a costruire le bacchette ok le bacchette le lenti e la bacchetta laterale ok ok spero che questo video sia stato interessante fino adesso se avete domande comunque da farmi iscrivetevi sotto questo video mandatemi una mail come volete voi mettete un bel like iscrivetevi al canale e vi ricordo il nostro sito IreneSiros3D con tutte le risorse a vostra esposizione a livello gratuito lo trovate diciamo nel link in alto sopra il titolo del mio canale a destra potete cliccare tranquillamente entrare nel sito ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ciao a tutti